buongiorno buongiorno a daniele partelli ciao dino buongiorno e buongiorno a un ospite speciale oggi abbiamo il piacere di avere zoe caneo ciao a tutti buongiorno vi vedo siete immagino chi in manzarda chi in in camera a casa diciamolo subito però vogliamo fare una chiacchierata con con zoe calciatrice della chievo fortitudo women anche loro come tutti noi fermi ma questo non ferma nostra voglia di conoscerci meglio e capire anche qualcosa di più delle di una delle protagoniste del chievo fortitudo vero danni sì siamo anche abbiamo voglia insomma di capire un po di più come si stanno organizzando anche le ragazze in queste giornate naturalmente complicate per per tutti vogliamo insomma un po entrare anche nei salotti delle nostre giallo blu e intanto faccio subito io una domanda ti chiedo zoe come stai vivendo questa situazione ahimè casalinga forzata quindi ti chiedo come ti stai un po organizzando e come stai vivendo personalmente tutto ciò che ci sta circondando diciamo che per una persona come me abituata a star fuori casa dalla mattina alla sera è un po difficile gestire questa situazione però diciamo che sto cercando di gestirla al meglio ecco e durante la giornata cerco di allenarmi più possibile seguendo un po gli esercizi che ci vengono mandati dal nostro preparatore atletico e faccio un po di attività organizzo delle attività per il mio lavoro e quindi cerco di passarmi via così ecco allora daniele se sei d'accordo inquadriamo un attimo in maniera proprio tecnica la nostra ospite di oggi a casa con il giallo blu dai ruolo età da quanti anni giochi nella fortitudo e soprattutto da quanti anni giochi a calcio allora ciao a tutti mi chiamo Zoe e ho 25 anni e gioco nella fortitudo mozzecane dal 2006 e prima di approdare la fortitudo mozzecane ho giocato per sei anni qui nella squadra del mio paese ad osso buono e sono una centrocampista e niente ecco questa è la mia breve descrizione diciamo però tu come per carità tante ragazze hai una storia particolare ci spieghi come è nato il tuo amore verso il calcio e ci racconti soprattutto qual è stata e come è avvenuta la tua primissima partita a calcio da bambina praticamente io ho un fratello che è più grande di me di tre anni e un giorno i miei genitori senza dirmi niente decisero di preparare il borsone e portarmi alla partita con mio fratello e da lì è stato subito amore a prima vista diciamo che da quel momento in poi ho sempre praticato calcio e penso che sia stata la giornata più bella della mia vita quel giorno da lì ho capito che il calcio è stato da fin da subito il mio migliore amico e non ho potuto farne a meno diciamo. Zoe ti volevo chiedere hai un ricordo del tuo esordio in prima squadra quando risale insomma se ti ricordi qualcosa di quella partita? Allora il 10 dicembre del 2010 ho fatto il mio esordio con la prima squadra della fortuna mozzecane a quel tempo eravamo in serie a due e la mia mister di allora decise di buttarmi dentro a venti minuti dalla fine e addirittura feci anche gol e fu un esordio diciamo con i fiocchi ecco scusami una mia compagna dalla difesa mi fece un lancio e io allora ero in attacco e ho stoppato il pallone e l'ho tirato e l'ho andata in rete. Il tutto a 15 anni se ho fatto bene i calcoli. Esatto sì. Complimenti. Grazie mille. Senti ma che tipo di centrocampista sei? So che fare questo tipo di domande agli atleti è sempre un po' metterle in difficoltà perché è giusto che siano gli altri a valutare ma insomma descrivici un attimo le tue caratteristiche tattiche tecniche atletiche. Ecco come hai detto tu diciamo che non mi piace molto descrivermi e lascio sempre che lo facciano gli altri però all'inizio sono partita come centrocampista offensiva con qualità più più da attaccante diciamo e adesso ultimamente mi ritrovo a giocare davanti alla difesa tipo playmaker diciamo e come caratteristiche mi rivedo un po' diciamo in inverrati un giocatore molto tecnico e con precisione nei passaggi sia lunghi che corti e penso che questa sia la mia caratteristica migliore ecco. Poi l'ultima parola sta sempre agli altri ecco. Ma certo è al campo ci mancherebbe altro. Esatto. Per dare un'idea anche a chi ci segue e a chi ancora ma la mente non ha visto una partita vostra dal vivo di raccontarti un po'. Daniele abbiamo raccolto altre domande per Zoe. Ti volevo chiedere abbiamo parlato un po' della Zoe calciatrice volevo sapere nella vita di tutti i giorni oltre a giocare a calcio perché sappiamo che purtroppo ancora oggi il calcio femminile non è ancora riconosciuto a livello professionistico. Ti occupi di altro lavori studi cosa fai? Diciamo che la mia più grande passione fin da sempre è quella di stare a contatto con i bambini e sono riuscita a fare della mia passione il mio lavoro per fortuna quindi faccio la maestra in una scuola dell'infanzia e sono diplomata in psicomotricità quindi fortunatamente sono riuscita ad abbinare le due cose ecco faccio sia la psicomotricista che la maestra in questa scuola dell'infanzia. E in questi giorni state come vi state organizzando perché diciamo ovviamente che a livello di istruzione bisogna un attimo organizzarsi per cercare di tenere il passo con questi in queste settimane questi mesi come ti stai organizzando stai mandando magari ai tuoi bambini dei lavori da fare? In questa settimana ci stiamo organizzando io e le mie colleghe stiamo mandando dei video ai nostri bambini dove organizziamo dei lavoretti o delle attività comunque da fare con i genitori a casa noi cerchiamo di mostrare il più possibile la nostra vicinanza alle famiglie perché questo di certo non è un momento semplice per nessuno quindi noi facciamo diciamo quello che riusciamo al meglio e così ecco. Ma questi giorni stai vivendo da sola in casa? Sei con la famiglia? Eh abito con i miei genitori quindi c'ho mia mamma a casa tutti i giorni mio papà va a lavorare però dai fortunatamente andiamo molto d'accordo ci divertiamo molto ridiamo scherziamo quindi il tempo passa. Avete riscoperto magari qualche vecchio gioco da tavola o le solite carte oppure anche voi vi state cervellando sui fornelli cioè c'è un qualcosa che fate rispetto a prima? Principalmente diciamo ognuno fa un po' cioè ad esempio mio papà fa dei video lui è un tipo molto scherzoso esce qua in giardino attorno alla casa si diverte così mia mamma ogni tanto si mette i fornelli fa da mangiare io oltre ad allenarmi fortunatamente ho la playstation quindi ogni tanto gioco anche contro qualche mia compagna ci passiamo via così ecco. Ti volevo proprio chiedere a proposito di tue compagne stiamo vedendo adesso sui vari social che ci sono delle un sacco di challenge tra tra calciatori tra compagni della stessa squadra o di squadre diverse tu e le tue compagne non so se avete una chat o comunque sui social state vi state organizzando fate degli aperitivi virtuali delle challenge diciamo che essendo abituate a vederci tutti i giorni e soprattutto tutte le domeniche ad esempio noi adesso la domenica ci videochiamamo in 20 e comunque ci teniamo sempre in contatto ecco per quanto riguarda le challenge sì dai anche noi abbiamo fatto qualcosa e cerchiamo di divertirci il più possibile ecco anche se come ti ho detto prima non è non è semplice per noi soprattutto che siamo abituate veramente a vederci tutti i giorni a sentirci tutti i giorni facciamo il meglio ecco certo senti ma nonostante la giovane età perché 25 anni ancora è un'età bellissima e giovane 210 presenze ho fatto bene i conti può essere che questo sia il numero eh sì non ti sbagli per me è un orgoglio veramente quindi sono molto soddisfatta ecco della mia carriera seppur giovane ma ci puoi raccontare ne abbiamo parlato anche con qualche tua compagna di squadra nei mesi scorsi durante qualche intervista insomma nonostante appunto solo 25 anni sei una bandiera si può dire che sei una bandiera di questa società e di questa squadra se tu dovresti descriverla in breve cos'è la fortitudo a una persona che non la conosce o come la conosce bene perché se ci stai così tanti anni vuol dire che in primis ti trovi bene te stessa sì per me la fortitudo è una seconda famiglia lì veramente sono cresciuta e ho conosciuto persone con dei valori veramente che al giorno d'oggi sono difficili da trovare anche solo camminando per strada incontrando le persone così diciamo e per me appunto la fortitudo è stata una palestra di vita mi ha fatto crescere mi ha fatto maturare e alla fortitudo devo veramente tutto o meglio tanto quest'anno vuoi anche per carità grazie alla figliazione con il Chio Verona mi raccontavano i dirigenti della vostra società che c'è stata anche una impennata di bambine che si sono iscritte chi per la prima volta chi invece ha voluto proseguire con voi una carriera agli inizi vuoi mandare un messaggio di quelle bambine che magari ancora oggi vorrebbero giocare a calcio ma non hanno avuto non lo so il coraggio lo spunto di farlo si può fare e si può fare benissimo da voi certo da noi le iscrizioni sono veramente alte le bambine che partecipano nella nostra società sono veramente tante e il consiglio che do io è quello di inseguire sempre le proprie passioni di non arrendersi perché veramente il calcio ti regala le emozioni più grandi Zoe siamo 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 in chiusura ti faccio un gioco ti do alcune qualità per trasformare Zoe Caneo nella calciatrice perfetta allora dimmi da chi prenderesti queste queste qualità allora il tocco di palla ovviamente vale panorama maschile femminile quello che vuoi andrà a pirlo il colpo di testa pazzini la grinta gattuso il tiro il tiro cristiano ronaldo e ultimo non è non è il tuo ruolo però il senso del gol il senso del gol messi una super calciatrice di di livello clamoroso poito sempre di del ruolo che fa in campo ne approfitto ancora brevemente adesso sei proprio il perno centrale cioè davanti alla difesa quindi il compito è doppio sia cercare di interrompere l'azione degli avversari ma poi soprattutto quella di costruire le azioni della della tua squadra quanto importante avere un ottimo feeling sia con chi ti copre le spalle cioè parlo dei difensori e sia invece di chi gioca al tuo fianco è importante noi durante gli allenamenti specialmente ci ci alleniamo anche in questo perché è importante parlarsi capire cosa ti succede dietro alle spalle capire le intenzioni delle tue compagne di reparto quindi penso che il dialogo sia molto importante in campo e noi su questo ci stiamo lavorando e ci sta riuscendo bene ecco la stagione era partita bene poi c'era stata una fase di stallo e poi eravate di nuovo invece di slancio vi eravate rilanciate benissimo prima dell'interruzione senza andare troppo in là con i pensieri che inutili adesso però se ci puoi dire cos'è che era cambiato in positivo nell'ultimo periodo che aveva che vi aveva anche aiutato a risalire molto bene molto velocemente la classifica diciamo che nell'ultimo periodo la nostra chiave di svolta è stata la tattica un po come siamo state posizionate in campo ecco questo diciamo che è stata un po la nostra la nostra svolta va bene daniele ne abbiamo approfittato anche eccessivamente ti chiedo veramente telegraficamente un messaggio da mandare a chi ci sta ascoltando perché è importante davvero per uscire da questa situazione è importante rimanere a casa quindi vorrei anche dalla tua voce questo messaggio quello che vi posso dire è quello di seguire il più possibile le regole che sono state date dall'alto e solo così torneremo a tutti insieme a uscirne il prima possibile ecco grazie Zoe continuiamo così mi raccomando grazie a voi è stata una bellissima chiacchierata un saluto a tutti ciao buona giornata ciao Zoe ciao e alla prossima puntata con a casa con i gialloblu grazie a tutti